Eccoci qua all'incubo parte seconda. Questa è la recensione di Energon Wingsaber. Ecco qua Wingsaber in modalità alternativa. E per prenderlo tutto mi serve quasi un fisheye. Dunque, come già detto nella recensione di Optimus, la linea Energon si proponeva di dargli un look futuristico ma realistico ai propri transforber. E questo manca in pieno obiettivo, ovviamente. Questo dovrebbe essere un bombardiere futuristico. E no, ci assomiglia vagamente a un bombardiere americano però ha qualcosa che decisamente non va. Faccio vedere qualcosa che mi piace. Ecco, qualcosa che mi piace è la cabina. Si vede che questo modello realisticamente dovrebbe essere molto grosso perché la cabina è proprio piccola. Per cui, questo modello dovrebbe essere veramente enorme e è armato veramente fino ai denti. Vediamo qua sulla punta delle ali questi due cannoni. Più a metà ala un altro cannone che aveva missili sparati ma io ho perso i missili. O forse non li ho mai avuti, non so, non l'ho preso l'uso questo modello. Comunque, abbiamo dei reattori qua sopra o almeno credo che debbano simulare dei reattori, queste cose. Però se la punta del mezzo è abbastanza ben fatta, aerodinamica, ben colorata, ben scolpita, e qua sotto abbiamo il carrello, appena vediamo qua dietro c'è questo blocco mattone collegato alla coda dell'aereo che distrugge tutto il suo potere essere minimamente credibile. Se lo vediamo da dietro, vediamo questa scultura che è quella ovviamente del petto del robot che può simulare dei reattori, forse. Questi sicuramente, però questi può essere. La colorazione non è male, blu, rosso, bianco dovrebbero essere i colori di Optimus, però come colori in sé non sono male, però per questo tipo di mezzo non c'entrano nulla. E devo dire che questo mezzo mi fa abbastanza pietà, per cui passiamo direttamente alla trasformazione. E la trasformazione non è niente di trascendentale, ma è carina per come è attuata. Cominciamo dal chiudere i carrelli qui e qua sotto, prendiamo il retro e tutta questa parte la abbassiamo di 90 gradi. La parte blu la ruotiamo di 180 gradi e ovviamente andrà a formare la gamba. Questa parte la richiudiamo e questa la portiamo sul fianco della gamba. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Questa parte sul retro la abbassiamo e andrà sulla schiena del robot e i due reattori fanno uscire la parte delle braccia e si richiudono sul petto. E queste due metà formano la testa in questo modo. Ed eccolo qui in modalità robot. Eccolo qua in tutta la sua splendente bellezza. Wingsaber, croce delizia di parecchi collezionisti. Perché croce delizia? Perché lesivamente con i Transformers c'entra veramente poco. Come design del robot, come particolari, scolpiti, colorati, sembra un generico robot giapponese. Sembra più che faccia parte di Gundam piuttosto che dei Transformers. Per come è strutturato. Se non fosse per questi giganteschi loghi Autobot sulle spalle. E la forma ricorda più o meno vagamente Star Saber. È un omaggio a Star Saber G1. Anche i colori dovrebbero essere un omaggio a Star Saber G1. Si avesse un po' più di bianco e un po' meno rosso. Però i colori sono quelli. Le gambe blu, braccia più o meno rosse, petto rosso e particolari bianchi. Più o meno i colori sono quelli. Ma il grossissimo punto debole di questo modello, oltre alla scultura che non c'entra niente con gli altri Transformers, è la posabilità. La posabilità che si riduce a questo. E le gambe che possono ruotare. Basta. Non ha altri punti di articolazione. È praticamente un modello, un mattoncino, che sta lì come fermacarte. È bello da vedere, ma basta. Esaurisce la sua funzione. La scultura e la colorazione, se vogliamo entrare nei particolari, sono davvero molto molto belle. Davvero non ci sono sbavature e praticamente tutti i particolari sono anche colorati. È veramente molto carino. Però se dovessi, di nuovo, come per Optimus, terminare qui la recensione, direi che è un bel fermacarte, ma è un fermacarte. Però, come detto nella recensione di Optimus, questi due si possono combinare. Vediamo subito come. Dunque, per prepararci all'agganciamento, cominciamo a spogliare Optimus di tutti i suoi moduli. Mentre Star Saver lo spezziamo a metà. Non Star Saver, scusate. Lo spezziamo a metà. Chiudiamo la testa E stacchiamo le gambe dal corpo Queste gambe già possiamo usarle su Optimus Così E per adesso le sono qua Mentre questo mezzo corpo Portiamo le spalle all'esterno e richiudiamo il braccio Questa sezione del bacino la pieghiamo all'interno di 90 gradi E la ruotiamo in questo modo Facciamolo anche sull'altra parte Così E queste parti le possiamo agganciare alle braccia di Optimus Uno E due E ecco qui Optimus Prime Insieme a Wing Saber Ed è lecito dire che in questa modalità è veramente figo Voglio dire i colori adesso sono quelli giusti Il corpo scuro Gambe blu Braccia rosse E ha delle ali Particolari gialli Insomma è veramente ben fatto In più guadagna delle articolazioni Quelle delle gambe rimangono sempre le stesse Però le braccia Ha un po' più mobilità Sul Sul gomito E persino questi pezzi bianchi Non stonano Perché simulano Diciamo Parte delle spalle Per cui E' tutto molto bello Se non fosse che Così E' parecchio Parecchio pesante E tende a Fare a Dattore di pisa Inclinarsi parecchio all'indietro Vedete Dovrebbe stare così Ma Pende Pende parecchio E se non fosse appoggiato all'addietro Cadrebbe rovinosamente Esatto Questa modalità E' veramente bello E giustifica il prezzo Di entrambi i modelli In più Un ink saber può essere Assemblato anche in un altro modo Vediamolo subito Dunque Disassembliamo Disassembliamo I pezzi Da Optimus Ma lasciamoli comunque separati Perché I pezzi sono qui Dunque Le gambe Le prendiamo sotto sopra Apriamo Questa parte La ruotiamo Di 180 gradi Apriamo Il pum Ed estraiamo Questo laser Facciamo la stessa cosa Anche di qua Così Mentre questa parte Questa piccola parte La mandiamo contro il pugno Che riportiamo in posizione Qui Apriamo il braccio Del robot Solleviamo questa parte E richiudiamo In questo modo Facciamo la stessa cosa Dall'altra parte E questi sono I stivalozzi Di Optimus Ecco qua Entra questa parte E la cannaziera I moduli Laser Vanno verso Il fronte Eccolo qua Nella seconda modalità E devo dire Che È quella che mi piace di più Perché È un po' più compatta Anche se i colori Sono invertiti Cioè Gambe rosse E braccia blu Comunque i colori Sono Quelli giusti E però Diciamo che Per dell'articolazione Del gomito O meglio Ce l'ha lo stesso Ma è Verso l'interno Del braccio Però In questa modalità È davvero Ben armato Più stabile Sicuramente È più stabile Grazie anche A Questo tipo di Talloni Dunque Vale la pena Comprare Wingsaber Da solo? No Secondo me No Così come Non vale la pena Prendere Solamente Energon Optimus Prime Ma Prendendolo in coppia Viene fuori Una cosa Davvero Molto Molto Fica Da vedere E poi È anche Abbastanza divertente Da Maneggiare Per cui Singolarmente I due modelli Vanno Sicuramente Bocciati Perché Sono Tra virgolette Inutili Da soli Ma In coppia Acquistano Davvero Tanto Senso Per cui Ve li consiglio E Non faccio fatica A dire Che In queste modalità Mi piacciono Mi piace anche Sempre Nell'ottica Di questa modalità L'interazione Con i piccoli Modulini Che potrei Considerare Quelli Un di più Oltre a questa modalità Per cui Direi di chiudere qui Se la recensione Vi è piaciuta Come al solito Vi chiedo di Di mettere Mi piace Commentare Iscrivervi al canale E visitare Autorobot.it Noi ci sentiamo Alla prossima recensione Che dovrebbe essere Quella di Omega Supreme Ma Scordatevelo Ciao ragazzi Alla prossima recensione Alla prossima recensione Alla prossima recensione Alla prossima recensione